Buongiorno a tutti, ciao Dana! Facciamo vedere cosa abbiamo attaccato qui nel pelo oggi. Un forasacco. I forasacchi, molto pericolosi per il cane, eccoli qua. Questa è una piccola spighetta e anche questa è molto pericolosa per loro, ma soprattutto queste, queste spighette qua, i forasacchi, si possono attaccare al pelo del cane. In questo periodo poi soprattutto si seccano e sono molto pericolose perché col movimento del cane avanzano e si conficcano nella loro pelle, possono proprio camminare dentro la pelle del cane. Appunto quando il forasacco petta nella cute del cane causa una infezione molto molto grave. I sintomi possono essere arrossamento, pus o gonfiore, accompagnato da molto dolore. Nel caso di penetrazione nel naso il cane inizia a starnutire, con possibile fuoriuscita di sangue. E' capitato questa cosa proprio al cane dei miei genitori, a Paco, che starnutiva e si grattava al naso, portato dal veterinario perché è l'unica cosa da fare, fatta l'anestesia e è dovuto stare lì, operato chirurgicamente perché aveva un forasacco proprio nel naso. Mentre se può capitare nelle orecchie o sotto le ascelle, infatti controllare sempre i cani dopo la passeggiata in questo periodo, nelle zampe, in mezzo alle unghie, sotto le ascelle e nelle orecchie, nel naso. Bisognerebbe tosare sempre i vostri cani, cosa che noi faremo venerdì, vero Dana? E controllarli sempre perché inizialmente le spighe si attaccano e possiamo estrarli anche da soli. Se non ci accorgiamo, appunto come dicevo prima, col movimento, i cani si spostano, camminano nel pelo del cane, possono penetrare sotto la cute e formare questo gonfiore, dolore, eccetera. Comunque se l'animale dovesse iniziare ad avere comportamenti sospetti come leccarsi o grattarsi eccessivamente, oppure avere delle improvvise crisi di tosse, potrebbe anche avere infatti un forasacco in gola, portarlo subito dal veterinario. Quando io ho trovato Dana, cioè veramente la mia amica Silvia ha trovato Dana, era piena di questi forasacchi in tutto il corpo, molti sono stati estratti manualmente, ha dovuto fare tre operazioni perché ne aveva uno proprio qua sotto l'ascellina, qua sotto. Non ci siamo accorti subito, gli ha fatto una bolla grossissima, rossa, gli stava arrivando quasi vicino al cuore, quindi per una settimana ha dovuto prendere, delle pasticche per formare una capsula per bloccare il forasacco, dopodiché l'abbiamo operata chirurgicamente anche a lei. Quindi le parti del corpo più a rischio da monitorare con maggiore accortezza sono naso, occhi, orecchie, bocca e zampe, in particolare tra le dita, mentre le zone che presentano un rischio minore, ma da tenere comunque sotto controllo, sono l'acuta in generale, i genitali e le ascelle perché comunque si possono vedere meglio. Per non avere problemi sarebbe opportuno di evitare in questo periodo di portare il cane nell'erba troppo alta. Non sempre questo è possibile perché comunque ai nostri amichetti piace tanto l'erba. Si raccomanda dunque di ispezionarli sempre durante o dopo la passeggiata, tenerlo sempre pulito e come dicevo prima, tosato. I cani che rischiano di più sono ovviamente quelli come Dana, cioè a pelo lungo. E niente, detto questo, come rimuovere questi forasacchi? Lo ripeto perché sono molto molto pericolosi, soprattutto quando sono secchi, questi adesso sono ancora verdi, quando sono secchi mi raccomando passare una mano tra il pelo, orecchie, il naso si vede, orecchie sotto le orecchie, in questo modo, sfregare molto, si sentono perché sono ruvidini, nelle zampe, scusa Dana prestami una zampina, in mezzo alle dita, sotto le ascelline, in mezzo alla coda, nella cute, e si possono estrarre manualmente se sono superficialmente attaccati, se invece sono penetrati bisogna portarli subito dal veterinario e intervenire chirurgicamente. Grazie a tutti e al prossimo video!